Buongiorno a tutti. Prima di illustrarvi il mio primo dpcm vi ricordo chi sono. Sono Super Mario Draghi. Chiamatemi pure Maestro Draghi. Metti lo spread, togli lo spread. Oppure chiamatemi Dragon Ball. Anche se cercherò di raccontare meno balle di quelli prima di me. O Ivan Draghi. Io vi spiezzo in due. Ora, che cammino sull'acqua e moltiplico pani e bond l'hanno già detto i giornali. Sapete che io non sono di molte parole. Quindi di questo nuovo dpcm non vi dirò niente. Scaricatelo sul sito del ministero e leggetevelo. Teste di cazzo. Bene. Ho finito. Avete 25 secondi per pormi domande. E professor? Chiamami pure Maestro. Maestro Draghi. Cos'è quella cosa che ha sulla fronte? E' una delle gemme dell'infinito. La gemma del potere? No. E' la gemma del denaro. Trattasi del mio superpotere. Voi italiani avete accumulato 2570 miliardi di debito pubblico. Ve li farò sputare fino all'ultimo centesimo. Altre domande? Professore, chiamami Maestro. Maestro, perché ha riciclato vecchi personaggi della politica? Non danno molto affidamento all'opinione pubblica. Vedi, se devo recuperare i soldi del debito, comincerò dai primi che i soldi se li sono magnati. Forza, tirate fuori quello che avete in tasca. Brunetta, quanto hai? Mi somministro senza portafoglio, mona! Carfagna, con quella borsetta di Louis Vuitton, ti tengo d'occhio. E tu, Zingaretti, dove li nascondi i soldi dell'ex PC? Di maio non fare finta di nasconderti. Ho qui il 730 del tuo babbo. E tu, Giorgetti, tira fuori i 49 milioni della Lega. E voi? State molto attenti. Arriverò anche da voi. Mwahahahaha!